E' inoltre del valese, inserato del cuore delle montagne spagnate dal sole, una banda di compagni riuniti per costituire un ruotetto vocale in occasione di un festival, che è il gruppo di la stella. Da allora, a questo punto, non ha smesso di trattare, prima per patrimoni e poi per piccoli concetti. Sotto la selezione della legisla dinamica e aromatica, da allora, gli erati sono cresciuti, gli erati si sono diversi trattati e gli erati si sono cambiati. Anche se oggi, da quando è il contributo del 19-30, da 20 a 55 anni, la stessa del gruppo non è cambiata. E i piccoli, la legisla, una passione comunque per la musica, sono adattrofrati. E qui a capello, a compagni alla trattoria, che sia capolini che è un po' di potenza, non è sempre che colare, ma c'è una cosa in francese e in chiesa che abbiamo visto il rumpo delle ore, che è la faccina, mia vola. È una trattura al mondo, che ha dato il nome a un suo concerto, basta poco per il mondo, e ultimamente a un chavarè, un cavalletto di cattelare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.